Non bastasse il tradimento della volontà popolare non ottemperando al referendum sull'acqua pubblica, ci si mettono anche le nuove tariffazioni, una su tutte, la contestata e famigerata Tixi che secondo Rifondazione Comunista è una mera formula matematica che non dà alcuna speranza agli utenti ma agevola solo le società di gestione. In sostanza l'acqua fa cassa sulla morosità degli altri e sulle perdite idriche, costi che vengono spalmati sulle bollette pagate dai cittadini. Il meccanismo pensato da Rera che si chiama Tixi e il nuovo sistema tariffario è una mostruosità ed è indifendibile, uno perché rintroduce all'interno della bolletta tutto quello che noi avevamo cancellato con il referendum ovvero la remunerazione del capitale che rientra con una nuova dicitura. Oneri finanziari, quindi è garantito il profitto alle società di gestione a prescindere dalla buona amministrazione. Inoltre la morosità è contemplata all'interno di questa tariffa a prescindere perché c'è un parametro del 7% sul fatturato che viene inserito all'interno della tariffa a prescindere se quella morosità c'è o non c'è. Terza cosa, nella tariffa verrà calcolato anche il mancato fatturato ovvero se il gestore prevede di fatturare 100 ma poi i cittadini sono bravi, fanno il risparmio idrico e quindi l'ACA fattura 80, ecco l'ACA può richiedere quella differenza tra 100 e 80. Insomma i cittadini pagano sempre. I cittadini oltre a pagare le morosità pagano anche la cattiva gestione degli anni precedenti. Ed è imbarazzante Giovanna Brandelli, la presidente dell'ACA che si giustifica facendo appello alle passate gestioni. Dovrebbe dirlo a Donato di Matteo che siede al suo fianco in consiglio di amministrazione. Le bollette che arriveranno saranno parametrate, e questo lo dicono le delibere dell'Ersi, su un numero di tre componenti. Quindi a prescindere dai componenti della propria famiglia, 1, 2, 5, 6, arriveranno bollette con tre componenti. Poi si vedrà conguaglio. Ecco noi chiediamo che si possa sin da subito dichiarare qual è il numero dei componenti, onde evitare che il cittadino debba pagare prima e poi riavere i conguagli.